abbiamo altre dichiarazioni sempre più balorde l'ineffabile ex ministro della giustizia attuale cagnolino di riporto del presidente che lo ha nominato segretario ha fatto delle battute una più stupida dell'altra ad opera un termine anche abbastanza contenuto perché nell'occasione della assoluzione in secondo grado di giustizia ha dichiarato così in maniera stupefacente ma i giudici non pagano mai ma non si vergogna ma non ti vergogni ti sei dimenticato di quante decine di magistrati sono stati uccisi e ammazzati e a te chi ti ha mai toccato nemmeno un capello eh ti sta dimenticando da ex ministro della giustizia che finché non c'è il terzo grado di giudizio le cose non sono definite che i tre gradi di giudizio esistano apposta per eventualmente riconoscere degli errori per modifiche per ulteriori accertamenti per cose intervenute nel frattempo e poi cosa ci combinano giudici ci sono le giurie le giurie popolari ma te cosa ti metti ti metti lì a fare questi discorsi a cazzo non ti vergogni ritorno a un po di pace col mio bel fungo mattutino arrivederci